L'antropologia strutturale è un libro dell'antropologo francese Claude Lévi-Strauss. Questa opera è il primo e più importante volume di una serie di raccolte di saggi in cui Lévi-Strauss ha pubblicato soprattutto contributi dedicati a problemi metodologici e teoretici da lui incontrati nella ricerca antropologica solo dopo aver abbandonato il quadro di una teoria della reciprocità ispirata da Marcel Moos e il linguaggio assume per Lévi-Strauss dal punto di vista metodologico una posizione chiave che occuperà successivamente su indagini etnografiche relative alla formazione dei miti nelle popolazioni indiane. I saggi all'interno di questa opera fondano il passaggio ad una etnologia costruita in base al modello della scienza linguistica strutturalistica poiché il linguaggio deve contenere leggi strutturali secondo cui sono costruite tutte le forme culturali della vita sociale l'analisi etnologica dei miti e dei sistemi antichi di parentela può procedere secondo il modello della semiologia. Le diverse sfere culturali vengono così interpretate come sistemi di segni la cui struttura interna deve essere di volta in volta fondata sull'attività inconscia di uno spirito umano il quale funziona secondo la logica analizzata da Desussur di una continua produzione di opposizioni. Questa raccolta offre attraverso alcuni esempi scelti un primo saggio del procedimento interpretativo etnologico esituito mediante tali riflessioni. L'opera può essere considerata un'opera fondativa dell'etnologia strutturalista ed è un'opera importante all'interno della discussione contemporanea sulla antropologia.